dopo due giorni dopo due giorni dopo due giorni dopo due giorni cosa ne pensate? cosa ne pensate? cosa ne pensate? cosa ne pensate? puoi farlo anche tu? puoi farlo anche tu? puoi farlo anche tu? no, non posso no, non posso imparare a farlo bene imparare a farlo bene imparare a farlo bene imparare a farlo bene non essere arrabbiato non essere arrabbiato mi servis non essere arrabbiato meglio un bacio meglio un bacio meglio un bacio luce pazzolui meglio un bacio di nuovo di nuovo di nuovo ora fa male ora fa male ora fa male fa male anche qui fa male anche qui non fa male qui non fa male qui non fa male qui è meglio che tu stia zitto è meglio che tu stia zitto è meglio che tu stia zitto già detto già detto già detto nient'altro 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 è vestito di nero è vestito di nero è vestito di nero non ha nemmeno pensato non ha nemmeno pensato non ha nemmeno pensato non facciamolo ora non facciamolo ora non facciamolo ora non ci sono altre domande non ci sono altre domande urgentemente necessario urgentemente necessario dall'altra parte della strada dall'altra parte della strada non interrompere non interrompere pensateci due volte pensateci due volte pensateci due volte sei stanko sei stanko tu sei stanko sei stanko sei stanko sei stanko anche io anche io Anch'io. Insieme possiamo. Vmessi noi можем. Insieme possiamo. Non dire nulla. Non dire nulla. Non dire nulla. Sarò io a parlare. Sarò io a parlare. Hai finito. Hai finito. Tu закончil? Hai finito? Andiamo insieme? Andiamo insieme? Vmessi пойдem. Andiamo insieme? Potresti anche. Potresti anche. Potresti anche. Tu potresti anche. Potresti anche. Alzare la voce. Alzare la voce. Nessuno può sentire. Nessuno può sentire. Nessuno può sentire. È troppo tardi. È troppo tardi. È troppo tardi. Andare dritto. Andare dritto. Andare dritto. Andare dritto. Girare a sinistra. Girare a sinistra. Girare a sinistra. Povergni una leva. Girare a sinistra. In questo momento. In questo momento. In questo momento. Si ci aspriamo. In questo momento. Vi sentite poco bene? Vi sentite poco bene? Ti be' è poca. Vi sentite poco bene? Stai arrossendo. Stai arrossendo. Tipo Crasnil. Stai arrossendo. Ipertensione arteriosa. Ipertensione arteriosa. Поднялось давление. Ipertensione arteriosa. Febbre. Febbre. Высокая temperatura. Febbre. Piove Piove Idet dosť Piove Sole tutto il giorno Sole tutto il giorno Celý dzień sonce Sole tutto il giorno Forse è meglio piú tardi Forse è meglio piú tardi Môžet lúč patom Forse è meglio piú tardi Oggi è nuvoloso Oggi è nuvoloso Oggi è nuvoloso Primo giorno d'autunno Primo giorno d'autunno Piove Dienj osini Primo giorno d'autunno È arrivato l'inverno È arrivato l'inverno Nostopila zima È arrivato l'inverno Così scuro Così scuro È difficile per voi È difficile per voi Tíbe tíželo È difficile per voi Ha comprato un'auto nuova Ha comprato un'auto nuova Ha comprato un'auto nuova Cúpil novu'yu mašino Ha comprato un'auto nuova È necessario assicurarlo È necessario assicurarlo È necessario assicurarlo È necessario assicurarlo Non si può fare Non si può fare È un malinteso 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 Farsi da parte Farsi da parte Farsi da parte Ateidi v storono Farsi da parte Farsi da parte Ci siamo incontrati Ci siamo incontrati Ci siamo incontrati Ci siamo incontrati Ha solo sorriso Ha solo sorriso On tolka ulobnulsa Ha solo sorriso I nervi non sono a posto I nervi non sono a posto 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 Era necessario Era necessario Era necessario Era necessario Partiamo subito Выезжаем немedlенно Partiamo subito Lasciateci in pace 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 Si chiedeva Si chiedeva Он удивился Si chiedeva È il suo assistente È il suo assistente Difficile da credere Difficile da credere Difficile da credere Si è fermato Si è fermato Si è fermato Di fronte a noi Di fronte a noi Di fronte a noi Напротив нас Di fronte a noi È così difficile per me 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 Voglio scusarmi Voglio scusarmi Voglio scusarmi Voglio scusarmi Non preoccuparti Non preoccuparti Non preoccuparti Non preoccuparti Non preoccuparti Mai visto Mai visto Con lui semplicemente Con lui semplicemente Con lui semplicemente È così difficile per me Estate insieme adesso State insieme adesso State insieme adesso State insieme adesso Вы сейчас вместе State insieme adesso Ora capisco Ora capisco Ora capisco Ora capisco Ora capisco Ora capisco. Sono molto preoccupata. Sono molto preoccupata. Io tak perejovaiu. Sono molto preoccupata. Questo è il mio errore. Questo è il mio errore. Questo è il mio errore. Ha una pessima memoria. Ho una pessima memoria. Posso vedere. Posso vedere. Io vizio. Posso vedere. Posso vederlo. Posso vederlo. Posso vederlo. Dov'è la finestra? Dov'è la finestra? Dov'è la finestra? Dov'è la finestra? Secondo da sinistra. Secondo da sinistra. Eccola. 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 Siamo qui. Mi пришli. Siamo qui. È uscito in strada. È uscito in strada. È uscito in strada. Ci vedo bene. Ci vedo bene. Non è affatto facile. È uscito in strada. Ci vedo bene. Non è affatto facile. Non è affatto facile. Non puoi entrare. Non puoi entrare. Non puoi entrare. Non puoi entrare. Non ci sono riuscito. Non ci sono riuscito. Non ci sono riuscito. Non puoi entrare. Non puoi entrare. Non puoi entrare. non ci sono riuscito in strada. Devo fare. Devo farcela. devo farcela. devo farcela. Il segretario invierà Il segretario invierà Secretario outpravita Il segretario invierà Questa mattina questa mattina сегодня utram Questa mattina. Nome interessante. Nome interessante. Interessante. Nome interessante. Penso di sì. Penso di sì. Penso di sì. È importante. Это важно. È importante. Turniamo oggi. Turniamo oggi. Возвращаемся сегодня. Torniamo oggi. Non voglio. Non voglio. Rimani qui. Rimani qui. Rimani qui. Non c'è di che. Non c'è di che. Nizè sto. Non c'è di che. Non è un criminale. Non è un criminale. Impossibile da dimostrare. Impossibile da dimostrare. Impossibile da dimostrare. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare. Siate pazienti. Siate pazienti. Siate pazienti. Siate pazienti. Molto rapidamente. Molto rapidamente. Molto rapidamente. Ho capito bene. Ho capito bene. Ho capito bene. In attesa di martedì. In attesa di martedì. Jdu va вторnik. In attesa di martedì. Quel giorno. Quel giorno. V'eatat dìń. Quel giorno. Nessuna possibilità. Nessuna possibilità. Nietuasmožnosti. Nessuna possibilità. Non è difficile. Non è difficile. Non è difficile. Rimarrà. Rimarrà. Il pericolo è passato. Il pericolo è passato. Opasnost minovala. Il pericolo è passato. Non importa. Non importa. Buon umore. Buon umore. Buon umore. non oggi. Non oggi. Non oggi. Non oggi. Guarda è lì. Guarda è lì. Guarda, Ellie Abbiamo visto Abbiamo visto Abbiamo visto Figura alta Figura alta Высокая figura Figura alta È rimasto in piedi È rimasto in piedi È rimasto in piedi È rimasto in piedi È caduto È caduto È caduto È caduto È caduto Sporgersi in avanti Sporgersi in avanti Naclagnись вперед Sporgersi in avanti Alzate le mani Alzate le mani Alzate le mani Alzate le mani Padnimi i rucchi Alzate le mani Ha agitato la mano Ha agitato la mano Ma non rucchi Ha agitato la mano Sono spariti Sono spariti Sono spariti Anjushli Sono spariti Sono spariti Sono a casa Sono a casa Sono a casa Sono a casa Parlare con me Parlare con me Senza dire Senza dire Senza dire Senza dire La conversazione era tesa Разgavor был напряженный La conversazione era tesa Hanno gridato Hanno gridato Hanno gridato Ha indovinato. Ha indovinato. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ho notato. Ja zameetil. Ho notato. Tornare in albergo. Viernis v gostiницу. Tornare in albergo. Lo capisco. Lo capisco. Ja go понимаю. Lo capisco. È bravo. È bravo. È bravo. È difficile non notarlo. È difficile non notarlo. Trudno ne zamiettiz. È difficile non notarlo. È andato all'ufficio postale. È andato all'ufficio postale. Zashòl na pocto. È andato all'ufficio postale. È in arrivo. È in arrivo. È in arrivo. Это po' putti. È in arrivo. Ho ricevuto una risposta. Ho ricevuto una risposta. Io ho ricevuto una risposta. Mostrarmelo. Pocagilo a me. Mostrarmelo. Proprietario del negozio. Proprietario del negozio. Hasiain magasina. Proprietario del negozio. Non ne ho uno. Non ne ho uno. U меня нетu. Non ne ho uno. Non ci conosciamo. Non ci conosciamo. Мы не знакомы. Non ci conosciamo. Voglio sapere. Voglio sapere. Я хочу знать. Voglio sapere. Si puo dire. Si puo dire. Ты можешь рассказать. Si puo dire. Non abbiamo. Non abbiamo avuto nessun. Una snebola. Non abbiamo avuto nessun. che conosciamo. No. Incontrato ieri. incontrato ieri incontrato ieri guardami 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 sei molto intelligente sei molto intelligente sei molto intelligente sei molto intelligente più intelligente di tutti più intelligente di tutti Più intelligente di tutti. Anche così. Anche così. Eravamo tutti in silenzio. Eravamo tutti in silenzio. Eravamo tutti in silenzio. Non voglio. Non voglio. Io ne хочу. Non voglio. Non voglio. Non voglio. Ne chòchis. Non voglio? Lo sai. Lo sai. Lo sai? Niente più Niente più Uже n'è ciò Niente più Torna più tardi Torna più tardi Vedremo domani Vedremo domani Zavтра lo vediamo Vedremo domani Non è venuta Non è venuta Se ne sono andati per sempre Se ne sono andati per sempre Se ne sono andati per sempre Pensateci due volte Pensateci due volte Pensateci due volte Un domani migliore Un domani migliore Luce zavtra Un domani migliore Non voglio Non voglio Ogni mattina Ogni mattina Ogni mattina Qui nell'appartamento Qui nell'appartamento Qui nell'appartamento Ho già sentito Ho già sentito Volevano essere amici Volevano essere amici Volevano essere amici Volevano essere amici Invitarli a unirsi a noi Invitarli a unirsi a noi Приglasi ich k'nam Invitarli a unirsi a noi Bisogno di una pausa Bisogno di una pausa Bisogno di una pausa Sedersi e rilassarsi Sedersi e rilassarsi Poi si di Addachni Sedersi e rilassarsi Ci andremo più tardi Ci andremo più tardi Poi idem pożer Ci andremo più tardi Alla vostra destra Alla vostra destra Sprawa at tibia Alla vostra destra Alla vostra sinistra Alla vostra sinistra Sleva at tibia Alla vostra sinistra Prenderò sicuramente Prenderò sicuramente Obizatelno возьmu Prenderò sicuramente Solo un po' più tardi Solo un po' più tardi Solo un po' più tardi È incapace di È incapace di Con tuo fratello Con tuo fratello Con tuo fratello Ne ho bisogno Con urgenza Ne ho bisogno Con urgenza Ci sono un paio di domande Ci sono un paio di domande Perchè proprio tu? Perchè proprio tu? È stato grande È stato grande L'hai dimenticato L'hai dimenticato L'hai dimenticato L'hai dimenticato? L'hai dimenticato? È lui, vero È lui, vero Ci sarò sicuramente Ci sarò sicuramente Ci sarò sicuramente Obizatelno придu Ci sarò sicuramente Forse è solo un'impressione Forse è solo un'impressione Может, показалось Forse è solo un'impressione Devo vedere Devo vedere Non lo sapevo Non lo sapevo Tornare a casa Tornare a casa Idiamo domani Tornare a casa Te lo dirò dopo cena Te lo dirò dopo cena Скажу после ужina Te lo dirò dopo cena Non ne dubito Non ne dubito Non ne dubito Ne sommevаюсь Non ne dubito Me come al solito Me come al solito Bisogno di alzarsi presto Bisogno di alzarsi presto Bisogno di alzarsi presto Bisogno di alzarsi presto Non posso dirlo con certezza Non posso dirlo con certezza Vedere con i propri occhi Vedere con i propri occhi Sampo smatri Vedere con i propri occhi Nuovo giorno Nuovo giorno Nuovo giorno Nuovo giorno Come perdere peso Come perdere peso Partecipare allo sport Partecipare allo sport È molto lontano È molto lontano È molto lontano È molto lontano Andare da mia sorella Andare da mia sorella Andare da mia sorella Andare da mia sorella Non si tratta di me Non si tratta di me Non siete in pericolo Non siete in pericolo Sì bene grazie Non siete in pericolo L'autunno è arrivato L'autunno è arrivato L'autunno è arrivato L'autunno è arrivato Andremo in macchina Andremo in macchina Poediamo in macchina Andremo in macchina Ultimo treno Ultimo treno Последний poest Ultimo treno Non siete in pericolo Non siete in pericolo Non siete in pericolo Non è tornato Non è tornato Non è tornato Non è tornato Contare con attenzione Non l'ho sentito Non l'ho sentito Non l'ho sentito Ricordami domani Ricordami domani Napomni завтра Ricordami domani Andare a letto Andare a letto Andare a letto Andare a letto Si è svegliato al mattino Si è svegliato al mattino Si è svegliato al mattino Guardare fuori Non intendevo Non intendevo Non intendevo Chiudere la porta Chiudere la porta Chiudere la porta Accendere la luce Accendere la luce Entrare nella stanza Entrare nella stanza Le finestre sono aperte Le finestre sono aperte Le finestre sono aperte Le finestre sono aperte C'erano molti ospiti 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 Dai verso Dai verso So стороны v сторону Dai verso Ci conosciamo bene Ci conosciamo bene Ci conosciamo bene Siamo usciti dalla casa. Siamo usciti dalla casa. Non l'ho riconosciuto. Non l'ho riconosciuto. Non l'ho riconosciuto. Non l'ho riconosciuto. Non gridare. Non gridare. Mi cricci. Non gridare. Il ghiaccio ha iniziato a sciogliersi. Il ghiaccio ha iniziato a sciogliersi. Lhotnaciltec. Il ghiaccio ha iniziato a sciogliersi. C'è qualcosa che non va. 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 Bellissimo abito. Bellissimo abito Bellissimo abito È molto più vecchio È molto più vecchio È molto più vecchio Andare a vedere Andare a vedere Poi di e posmati Andare a vedere Dovete rispondere Dovete rispondere Nus'no a tve tic Dovete rispondere Prima domanda Prima domanda Prima domanda Prima domanda Sento il rumore Sento il rumore Sento il rumore Sei già sveglio Sei già sveglio Ho riconosciuto la voce Ho riconosciuto la voce Ho riconosciuto la voce Non ha visto nessuno Non ha visto nessuno Nikavo ne vidio Non ha visto nessuno Ti sta osservando Ti sta osservando Non capisco Non capisco Non capisco Non capisco Tutti se ne sono già andati Tutti se ne sono già andati Seguirlo 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 Non credo Non credo Non credo Io tak ne думаю Non credo Principalmente 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 Dopo otto ore Dopo otto ore Dopo otto ore Через 8 часов Dopo otto ore Non puoi rifiutare 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 Non ho motivo di. Non ricordo nulla. Non ricordo nulla. Non ricordo nulla. Non ricordo nulla. Ti sta aspettando. Ti sta aspettando. Ti sta aspettando. La tua taglia. Tuoi размер. La tua taglia? Su due ufficici. Su due ufficici. Su due uffici. Non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Nicola non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Dall'inizio. Dall'inizio. Non me lo sto inventando. Non me lo sto inventando. Ricordo bene quel giorno. Non me lo sto inventando. Ricordo bene quel giorno. Ricordo bene quel giorno. è passata circa un'ora. È passata circa un'ora. è passata circa un'ora. Non più lasciato. 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 Arriverà presto. Arriverà presto. Scoro priedet. Arriverà presto. Voglio provare. Voglio provare. voglio provare chi è? chi è? chi è? è mia madre è mia madre è mia madre firma qui firma qui firma qui подpишite здесь firma qui vuoi venire con me? vuoi venire con me? poedish sa mnoy vuoi venire con me? non ha detto non ha detto non ha detto quando tornerà? quando tornerà? quando tornerà? quando tornerà? rispondere 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 in questo momento in questo momento in questo momento siamo arrivati in tempo siamo arrivati in tempo siamo arrivati in tempo non prendere più non prendere più non prendere più e così è successo e così è successo e così è successo descrivere la sua apisci io descrivere la sua ci siamo quasi ci siamo quasi ci siamo quasi oggi fa caldo oggi fa caldo oggi fa caldo mi dispiace mi dispiace mi dispiace mi dispiace è un uomo buono è un uomo buono è un uomo buono Non può essere. Etova ne možet bit. Non può essere. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Anch'io ne voglio uno. Io tože хочу. Ieri pomeriggio. Vcero dnjom. Ieri pomeriggio. Piove da stamattina. Piove da stamattina. Sotra šol dost. Piove da stamattina. Qual è il tuo? Qual è il tuo? Qual è il tuo? Qual è il tuo? Faccio quello che posso. Faccio quello che posso. Dielo što magu. Faccio quello che posso. E allora? E allora? E allora? E allora? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Hanno litigato? Hanno litigato? Hanno litigato? Hanno litigato? Hanno litigato? Certo che no. 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 Nient'altro. Nient'altro. Bolle n'čevo. Nient'altro. Dove ora? Dove ora? Gde on sičas? Dove ora? Sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato. Numero 23 Numero 23 Numero 23 Numero 23 Questo è certo. Questo è certo. Eto už točne. Questo è certo. Cosa è successo dopo? Cosa è successo dopo? Sto bullo patom. Cosa è successo dopo? Continuare. Continuare. Davai dalce. Continuare. Non vedi? Non vedi? Ci vieni vidne. Non vedi? Non c'è stata risposta. Non c'è stata risposta. Atvete nebilo. Non c'è stata risposta. Era buio. Era buio. Era buio. Быle temno. Era buio. Sì, capisco Sì, capisco Da, io capisco Sì, capisco Ok, compratelo Ok, compratelo Ok, compratelo E dove si trova? E dove si trova? E dove si trova? E dove si trova? Sdraiato sul tavolo Sdraiato sul tavolo Lежит na stale Sdraiato sul tavolo Può spiegare? Può spiegare? Può spiegare? Ma non siate arrabbiati Ma non siate arrabbiati Ma non oggi Ma non oggi Come accenderlo? Come accenderlo? Come spegnerlo? Come spegnerlo? Come spegnerlo? Posso entrare? Posso entrare? Posso entrare? Posso entrare? Nell'altra stanza Nell'altra stanza Guarda sul divano Guarda sul divano Guarda sul divano Proprio di fronte a voi Proprio di fronte a voi Proprio di fronte a voi Prima pered toboi Proprio di fronte a voi Lo dirò a tutti Lo dirò a tutti Lo dirò a tutti Я расскажу всем Lo dirò a tutti Non ho motivo di Non ho motivo di U меня нет причин Non ho motivo di Condividere con me Condividere con me Podilissam noi Condividere con me Abbassa la voce Abbassa la voce Non posso Non posso Non posso Я просто не могу Non posso Mi sono arrabbiato E me ne sono andato Mi sono arrabbiato E me ne sono andato Mi sono arrabbiato E me ne sono andato Non è successo nulla Non è successo nulla Non è successo nulla Non è successo nulla Bisogna capire Bisogna capire Bisogna capire Bisogna capire Non si sognerebbe Non si sognerebbe mai di farlo Non si sognerebbe mai di farlo Nessuno lo sa Nessuno lo sa Nessuno lo sa Nessuno lo sa Semplicemente Semplicemente Non riesco a immaginarlo. Non riesco a immaginarlo. Non me lo sto inventando. Non me lo sto inventando. Non me lo sto inventando. C'è molto da vedere qui. C'è molto da vedere qui. Viene da Londra. Viene da Londra. Viene da Londra. Quando sarà? Quando sarà? Quando sarà? Quando sarà? Non ha detto. Non ha detto. Non ha detto. È passata mezz'ora. È passata mezz'ora. È passata mezz'ora. Come questo o meno. Come questo o meno. Come questo o meno. Come questo o più. Come questo o più. Sei stanco? Sei stanco? Sei stanco? Non oggi. Non oggi. Non oggi. Non oggi. sei in casa. Sei in casa. Sei in casa. Sei in casa. Indietro tardi. Indietro tardi Non fermarsi Non fermarsi Dillo più forte Dillo più forte Dillo più forte Il sole sta tramontando Il sole sta tramontando Il sole sta tramontando Oggi è nuvoloso Oggi è nuvoloso Oggi è nuvoloso Oggi è nuvoloso Il treno si è mosso Il treno si è mosso Il treno si è mosso Mi dispiace Non intendevo Mi dispiace Non intendevo Presti Mi dispiace Non intendevo Non combattere Non combattere Non combattere Non era questo il caso Non era questo il caso Etho non era questo il caso Non era questo il caso Ho capito Ho capito Ho capito Stanno facendo la guardia a qualcosa Они что-то охrenяют Stanno facendo la guardia a qualcosa Nella prima auto. Nella prima auto. In mezzo a un campo. Posso riposare. In mezzo a un campo. In nessun caso. Nhi v coim sluče. In nessun caso. Mi è sembrato. Mi è sembrato. Mne pocazalas. Mne pocazalas. Niente piu. Niente piu. Niente piu. Indirizzo postale. Indirizzo postale. Počtový adres. Indirizzo postale. Non sorpreso. Non sorpreso. Mi udi vlina. Non sorpreso. Andiamo in camera. Andiamo in camera. Paidňom v komnato. Andiamo in camera. Vieni da me. Vieni da me. Vieni da me. Vieni da me. Una lettera a voi. Una lettera a voi. C'e biepismo. Una lettera a voi. Ne hai comprato uno. Ne hai comprato uno. Te copiù. Ne hai comprato uno. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Iani uspil. Non ce l'ho fatta. Non ho visto. Non ho visto. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Rispondere. Rispondere. Napisci ответ. Rispondere. Venire immediatamente. Venire immediatamente. Venire immediatamente. Venire immediatamente. Rispondete. Per favore. Rispondete. Per favore. Отвечai, пожалуйста. Rispondete. Per favore. Chi è? Chi è? Chi è? Non ha detto nulla. 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 Davanti a voi. Davanti a voi. Spiriditi bia. Davanti a voi. Dietro di te. Dietro di te. Zaditi bia. Dietro di te. Ma non in questo momento. Ma non in questo momento. Tolkani сейчас. Ma non in questo momento. Non prima di. Non prima di. Ranschenia bula. Non prima di. Dove stai andando? Dove stai andando? Cuda te palies? Dove stai andando? È sporco. È sporco. È sporco. Quale dimensione? Quale dimensione? Kakurasmir. Quale dimensione? Come aprirlo? Come aprirlo? Come aprirlo? Kakakryt. Come aprirlo? Come chiudere? Come chiudere? Kakzakryt. Come chiudere? All'indietro. 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 Vabratno e storano. All'indietro. Ho colpito il centro. Ho colpito il centro. Iapapalfcentra. Ho colpito il centro. L'ha data via. L'ha data via. L'ha data via? Non posso. Non posso. Iani smagu. Non posso. Non ti permetterò di. Non ti permetterò di. Ne razzrishio tibi. Non ti permetterò di. Poi ha dato. Poi ha dato. Poi ha dato. Poi ha dato. Non credo che stiano mentendo. Non credo che stiano mentendo. Do you, I'm in your good. Non credo che stiano mentendo. Sono passati due giorni. Sono passati due giorni. Prasciò due giorni. Sono passati due giorni. Solo ieri. Solo ieri. Solo ieri. Solo ieri. Uomo intelligente. Uomo intelligente. Uomo intelligente. Un mimuscina. Uomo intelligente. E. So. Toil. Me. No. Trump. Gi Magegate. O. Il. Grazie a tutti.